Ciao Gianni! Ciao Fabio! Come andiamo? Andiamo relativamente bene, dai! Ecco, volevamo salutare i tuoi amici che ti seguono da casa di Svegliati Alessandria. Tramite me? Sì, non li vuoi salutare? Certo, te li saluto io! Cosa gli dici? Che io sono sempre... Che hai una pellaccia dura! Sono sempre in pista, sei sempre attento alle cose che succedono in Alessandria e aspetto sempre qualche cosa Per andare a fare qualche video? Eh sì! Va bene! Naturalmente la tua pagina Facebook è ben curata e va sempre avanti Grazie ai miei collaboratori! Eh ma tu hai fatto scuola eh! Fabio è il professore! E la tua mitica macchina da presa, la tua mitica cinepresa, dov'è? Sì! Esatto! E poi bisogna insegnare i bambini a riposo? La scuola è camera? Sì! E' in camera! E sta riposando! Ma la rimettiamo in pista o no? Allora le batterie a scuola! Beh, si comprono le batterie! Va bene, a questo punto siamo in giorno 22! Due! Due! Quindi un caro saluto a tutti voi da parte nostra e soprattutto dal nostro amico Gianni! Gianni! Ciao a tutti! Sì! E? In gamba! E ci vediamo presto, dillo un po'! E seguite sempre! Svegli e ti avresti! Sandra! Bravissimo! Alla prossima! Ciao Gianni! Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao! Ciao a tutti!